Saremo durissimi nei confronti dei responsabili, saremo duri nel portare avanti questa battaglia, ripeto, a fianco delle famiglie perché i ragazzi davvero rappresentano il futuro della nostra città e noi su questa vicenda ci vogliamo vedere chiaro. Ci vogliamo vedere chiaro, io per venerdì ho convocato anche le presidi degli istituti comprensivi anche per trovare una soluzione per coloro i quali dovranno frequentare le strutture scolastiche fino al 30 di giugno per immaginare anche la possibilità di mangiare all'interno della scuola portando il pasto da casa quindi dando una soluzione anche alle tante famiglie che hanno già programmato le ferie e che si trovano in difficoltà per questa spiacevole e triste vicenda. Un'altra considerazione importante da fare è che l'ASL ieri ci ha comunicato che qualora vorressimo riaprire le mense ma che noi non riapriremo per questo anno scolastico dobbiamo effettuare delle disinfestazioni all'interno dei centri cottura e all'interno dei luoghi di refettorio delle scuole. Quindi questo anche attesta la bontà del nostro operato circa la sospensione lunedì mattina del servizio mense e quindi delle aree di refettorio che oggi sono chiuse su cui effettueremo questa disinfestazione. Quindi le altre aree scolastiche ha garantito anche l'ASL ieri in commissione che sono frequentabili e quindi abbiamo fatto bene anche a mantenere le scuole aperte. Le opposizioni hanno alzato la voce, c'è anche chi ha chiesto le sue dimissioni? Io credo che su una vicenda che riguarda i bambini non bisogna fare strumentalizzazione politica per raccattare qualche voto. Noi su questa vicenda siamo parte l'ESA, il servizio mense è esternalizzato quindi non è diretto dal comune, il comune è evidente che è parte l'ESA insieme ai bambini, insieme alle famiglie ed è il primo soggetto che vuole fare chiarezza non solo per la salvaguardia dell'ente, per l'immagine ma soprattutto per la salute pubblica, per la salute di questi bambini che hanno dovuto soffrire questa patologia e per le loro famiglie che in questi giorni hanno avuto delle giornate sicuramente difficili.